Robi, lo sapevi che Vanna Marchi penso sia stata una delle pochissime a dire di no a Silvio Berlusconi, vero? Certo, forse è l'unica. Forse è l'unica, e non l'ha prese benissimo Silvio, vero? No. Ce la racconti questa cosa, perché per me è super interessante. Beh, sai... Cioè, com'andò un po' la vicenda? È una cosa come un'altra, cioè eravamo a Porto Cervo, dove noi avevamo casa a quei tempi, ero in giro, mi si avvicina un signore e mi dice il signore era quello che tu hai visto a Netflix, era il Marchese, e mi dice, sa, dice, la volevo invitare a casa di Delutri perché le vuole presentare Silvio Berlusconi che avrebbe una cosa da proporgli. Io lo credevo un pazzo questo qua, effettivamente lo era pazzo però. Vabbè, niente, dice, la veniamo a prendere, lei dice, no, io non vengo. Vabbè, dico, vado io, dai. Vado in casa di Delutri e niente, come arrivo lì, c'è il Maggiordomo ovviamente, capito, tutta la gente in abito da sera, così, io no, io povera disgraziata. E niente, e poi mi si presenta, questo lo racconto sempre perché mi è rimasta qua, un bambino di dieci anni, alto così, in smoking, mi bacia la mano e mi dice benvenuta signore. Ma era stato messo apposta un bambino lì? Ma no, era il figlio, il figlio di Delutri, con l'educazione che ha Delutri, capite, con l'eleganza. Vabbè, io sai, niente, poi dopo un po' arriva Silvio, solito, no? Un baglioncino. Com'è Silvio nella vita privata? È uguale a come? No, non è come lo vedi lì. È palcoscenico anche quello? Eh? Cioè quando lo vedi in termini? È meglio che non lo dico. Niente, allora, niente. Allora, ti più di come lo vedi. A me piacerebbe invece che tu lo dicessi. A parte che parliamo di una vita fa, eh. Parliamo di tanti anni fa. Parliamo di 36, 37 anni. Ok, ok, ok. Ci sediamo lì e lui mi dice, ah, noi avevamo pensato di farle condurre un programma. A me? Sì. Quale? Dice, ok, il prezzo è giusto. Il prezzo è giusto. Ah, quello che faceva, che è? Ivan Zanicchi lo faceva? Quello della ruota? Cento, cento. Ivan Zanicchi ha preso il posto che avrei dovuto prendere io. Sì, chiaro, chiaro. Ah, ah, ah. Facevo Sabani a quei tempi. Ok. Va bene. No, dico, guardi, io non... Mi dispiace, la ringrazio, ma non posso accettare perché ho 92 dipendenti, ho un'azienda. Come faccio? Come fa? Va a Bologna, chiude l'azienda e viene a Milano. Come fa? In che senso? Dico, chiudo l'azienda? Dico, ma scusi, eh, ma non è possibile? Tutto è possibile. E dico io, ma non lo posso fare? Dico, ma si rende conto che è un'azienda, che fattura, eccetera. Dice, io lo so quello che lei fattura. Ma lei potrebbe fare molto di più. Dico, puoi, ma non lo posso fare. Lui non è che... Ma poi sai, io ero imbarazzato, non sapevo più cosa dire, dico... E poi, ho detto la verità... Ma col senno di poi lo rifaresti? Assolutamente no. Dico, ma è un programma... Gli diresti di sì? A chi? A Silvio? No. No, sempre no. Hai, vedi, hai risposto al contrario? Vabbè, dico... E poi è un programma che non è che mi piace... Non lo vedo adatto a me. Dico, magari potessimo cambiare qualcosa. Non si cambia assolutamente niente. Va bene, ok. Cioè, quindi è un no? Mi dispiace. Dice, è il primo no che ricevo nella mia vita. Dico, guardi, a me dispiace, ma lei è tanto giovane. Dei no ne riceverà degli altri nella vita. Lui si alza in piedi, mi dà la mano e se ne va. Eh, va, è incredibile.